Ciao Claudia, questo video è dedicato a te, ti voglio dire che ti voglio tanto bene, ci tengo a te e che se ti dico delle cose perché ti tengo davvero a te, quindi non ti arrabbiare se ti dico o ti consiglio o ti dico delle cose, non perché non ti voglio bene, anzi, tutt'altro, capito? Anche perché io ho una certa esperienza da te, quindi ciao, ciao piccola, ciao.